Le ragazze sono pronte, le vedremo nell'ultima uscita con l'abbigliamento elegante, saranno sensuali e raffinate sicuramente. A voi la terza uscita con le ragazze in abito elegante. La numero uno, Claudia, Malafronte. La numero due, Maddalena Amato. Leia Emanuela Milo. La numero quattro, Miriam Caggiano. La numero cinque, lei è Sabrina Prisco. La numero sei, Chiara Ravani. La numero sei, Rosa, Miranda, Antoni. La numero otto, Michela Narciso. La numero nove, Giorgia Ferrigno. La numero dieci, Ornella, Inzo. La numero dieci, Maria Antonietta Dallarico. E per Maria Antonietta voglio spandere due parole. L'abito che indossa è stato creato proprio da lei. Frequenta il secondo anno dell'Accademia di Moda e questo abito è la sua prima creazione ispirato a Elisab. La numero dieci, Giulia, Jessica, Faino. La numero dieci, Clarissa Sorrentino. La numero dieci, Clarissa Sorrentino. La numero dieci, Riccardo. La numero dieci, Federica Capo. La numero dieci, Riccardo. E con Federica completiamo il primo blocco delle ragazze in elegante, fatevi un'ultima passerella dal numero 1 alla numero 14. Vederle in abito da sera riesce a far venire fuori tutta la loro personalità e il loro carattere e la loro eleganza in passerella, ma continuiamo con la numero 15 fino ad arrivare alla numero 27. La numero 15 Emanuela Detta La numero 16 Emanuela Detta La numero 16 Emanuela Detta La numero 17 Deborah Sabato La numero 16 Emanuela Detta La numero 18 Emanuela Detta La numero 18 Diana Candela La numero 18 Emanuela Detta La numero 19, Aurora Casciano. La numero 20, lei è Fatima Ndao. La numero 21, lei è Caterina Bondar. La numero 22, Alessandra Cardella. La numero 23, Anna Capone. La numero 24, Silvia. Ingenito. La numero 25. Martina Zullo. La numero 26, Martina Mennella. La numero 27, Santina Indelicato. E le rivediamo tutte dalla numero 15 alla numero 27. In questa carrellata finale in ambito elegante. La numero 27, Martina Mennella. La numero 27, Martina Mennella. La numero 28, Martina Mennella.